Ciao a tutti malati di Milan e non, allora oggi prima di scordarmelo come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi piacerà, a iscrivervi al canale così non vi perderete più nessun altro mio video e a sostenermi sempre e comunque perché sono un milanista come voi, vi voglio bene, mi impegno e insomma ragazzi sostenetemi dai non fatemi piangere. Allora oggi parliamo di Fonsechino, oggi parliamo di come secondo me e da quello che ho visto, ho studiato un pochettino lì di Fonseca, come vorrà giocare Fonseca e il mercato che si dovrebbe andare a fare secondo il sottoscritto senza dover ricorrere a 200 milioni di budget, senza dover andare a fare la carina su FIFA e inventarsi cose favolette come fanno in tanti. Quindi cerchiamo di parlare solo di fatti, ok, concretezza. Allora, e lo faremo anche, farò anche vedere la mia lavagnetta tattica, attenzione, rimanete sintonizzati. Allora, a parte le cazzatine, un discorso importante per partire ovviamente per il mercato, dico subito, a mio avviso ragazzi questa squadra, e Fonseca l'ha detto anche in conferenza e sono contento, l'ha fatto capire, non è una squadra scarsa, è una squadra forte, che ha un buon organico e che secondo me non ha bisogno di chissà quanti acquisti. Considerando la rosa attuale ragazzi, senza vendere nessuno, togliendo ovviamente gli esuberi Romero, Vallo Tureo, Rigi, Valdini, ok, togliendo gli esuberi, a mio avviso questa squadra ha bisogno di 3-4 innesti soprattutto, ok, cioè quindi obbligatori. Che sono il terzino destro, anche se secondo me, e nella formazione che vi farò vedere a breve, non l'ho messo per restare ancora più basso col budget, il difensore centrale, il centrocampista centrale, e un centrocampista centrale, e la punta. Questi quadro acquisti, non 1000, non 3000, non tanti nomi come state facendo, capisco che quando c'è il mercato molti vogliono viaggiare con la fantasia, mi piace anche tanto a me il mercato, sognare, eccetera, eccetera. Parliamo di fatti, oggi voglio parlare in maniera concreta, il Mina ragazzi è una grande rosa e a mio avviso ha bisogno di questi acquisti qui. La formazione che a mio avviso si andrà a vedere per la maggiore, senza ragazzi, ho messo tre nomi, tre acquisti, che sono Pavlovich, Fofanà e Morata che sembrano i più vicini, ma non mi concentrerai tanto sui nomi ma più che altro sulle caratteristiche e su come andremo a giocare. Questa qui è la formazione ragazzi, a mio avviso questa sarà la formazione, potrebbe essere la formazione, e come vedete è un 4-3-3, ma attenzione perché c'è scritto mascherato 4-2-3-1. E il perché ve lo vado a spiegare con la mia lavagnetta tattica, non so come mi stanno mettendo con le 3.000 cose che ho, ma per spiegarvi un po' come giocare a Fonseca ho bisogno di questa bellissima lavagnetta tattica. E vi andrò un po' a spiegare come un grandissimo tattico, come uno dei migliori match analyst, come a mio avviso Fonseca giocherà. Come vedete la formazione è in difesa, in porta abbiamo Magnan, che ragazzi insieme al rinnovo di Teo devono essere obbligatori insieme agli acquisti, quindi tre acquisti non troppi, ma anche questi due rinnovi, mi raccomando. Magnan in porta, i difensori ragazzi che sono Tomori a sinistra, perché? Perché secondo me Tomori è più veloce e visto che Teo è un po' più di spinta rispetto all'altro terzino, magari lascerà qualche metro in più e Tomori con la sua velocità può essere importante. Il sostituto di Tomori è Malik Chao, Pavlovich dall'altra parte è un po' più solido, un po' più compatto e gabbia come suo sostituto. Dall'altra parte ho lasciato Kalulu, perché secondo me Kalulu può essere adattato come terzino destro, sicuramente un po' più bloccato, stile braccetto, ok? Quindi Kalulu mi avviso può essere adattato, ma nel caso ragazzi, ripeto, un terzino lo possiamo comunque comprare, sono rimasto basso per non sognare troppo, ok? Sostituto ovviamente ragazzi Calabria, che a mio avviso è sostituto, lo può fare per quanto viene bistrattato e tutto, a mio avviso è sostituto un buonissimo, una buonissima riserva. A centrocampo invece viene il bello e viene un po' il complicato e anche il motivo per il quale io, per la quale sto realizzando questo video, perché non è un video molto breve, sarà abbastanza lungo, ma perché? Perché devo spiegarvi un paio di cose. Il centrocampo ragazzi è, il nostro centrocampo non è in realtà andato a completare chissà quanto, perché? Perché abbiamo vari giocatori, varie caratteristiche. A mio avviso sicuramente il titolare inamovibile in questo centrocampo è Benasser, o meglio, uno con le sue caratteristiche, ok? Se vorranno vendere Benasser ovviamente dovrà arrivare uno con le caratteristiche di Benasser. Io ho due nomi in mente, uno è Arthur, che non mi dispiacerebbe, perché ha fatto bene con la ferentina, ma attenzione, bomba, alla sorpresa Verratti, perché io ho la foto di Ibra con Verratti e Verratti, ragazzi, a mio avviso, ha ancora tanto da dare. Quindi, diciamo che Fonseca, per come gioca lui, ragazzi, ha bisogno di questi due centrocampisti, che sono due centrocampisti abbastanza totali, stile che è Siben e Ser, che sappiano fare sia interdizione, sia impostazione, strappo e intelligenza tattica, no? E sicuramente uno un po' più di strappo e uno un po' più bravo a impostare. Quindi a questo punto avremo Benasser, tengo Benasser, ragazzi, ma avete capito che non è tanti nomi, ma ma le caratteristiche. E sostituto di Benasser per quello che abbiamo oggi è Adli, ok? Ma, a mio avviso, qui si potrebbe vendere per migliorare le seconde linee. Stessa cosa per Pobega, si potrebbe vendere Pobega per prendere una seconda linea migliore. E gioverebbe la formazione, ma rimaniamo umili. Tanto, ripeto, non è questione di nomi oggi, ma è questione di far capire come, a mio avviso, verrà messo poi in campo il Milan. Da questa parte teniamo un buono il nome di Fofana, perché sarebbe un buon acquisto, che è invece il centrocampista un po' più di strappo. Bravo in interdizione, bravo anche a impostare, a mio avviso non è male. Però è anche lui un po' più di strappo, ok? Quindi questi due tipi di centrocampisti e il sostituto, ragazzi, di Fofana è Musa. E l'altro centrocampista, che per caratteristiche, a mio avviso, abbiamo Reinders. A mio avviso può far la mezzala libera. E Loftus, a mio avviso, potrebbe essere sostituto. Detto questo, e voi state chiamando Loftus, sostituto. Sì, ragazzi, le partite sono tante, la rosa deve essere ampia e, a mio avviso, sarebbe tanta roba avere uno dei due in banchina. Attenzione però a questa roba qui, perché questo è un modo di giocare di Fonseca. Ma Fonseca, ragazzi, quindi i due centrali rimangono. Ma attenzione, perché la mezzala di strappo potrebbe arrivare a fare due, ok, centrocampisti. E l'altra mezzala, quella più libera, che fa un po' dall'accordo, un po' come faceva Cialanoglu, no? Se la fa Reinders, fa un po' quel lavoro lì. Ma attenzione, perché a Lille, ragazzi, molto spesso, giocava col trequartista naturale, ok? E se, ragazzi, vuole giocare col trequartista naturale, bisogna andarla a comprare. A meno che vuole adattare Pulisic, che per carità sarei molto, ma molto curioso di vedere Pulisic in quella posizione. E magari fa questo tipo di lavoro qui e adatta Pulisic. Oppure, ragazzi, sul mercato bisogna intervenire. E quindi arriviamo ad un altro acquisto. Il trequartista. Ieri su Instagram mi ho fatto la domanda, voi che andreste a prendere? Ve lo chiedo anche qui sotto questo video. Voi che andreste a prendere il trequartista? Qual è il trequartista che vi piacerebbe vedere? A me, ragazzi, mi piacerebbe tanto Colpani. Colpo possibilissimo. Vai dal Monza, che vuole Maldini, ti togli un esubero come Maldini, gli dai qualche milione e Maldini, e ti porti a casa Colpani. Che, a mio avviso, in questo sistema di gioco si troverebbe a meraviglia, ragazzi. A meraviglia. Quindi, Fonseca, ragazzi, ha due variabili a centrocampo. O questa, con il trequartista naturale, oppure con il centrocampo a tre, con la mezzala un po' più libera e le due mezzali e una mezzala e il mediano che vi ho parlato prima, che poi, in realtà, ragazzi, questo è un po' più bloccato, ok? I Fofanari hanno un po' più bloccato e il centrocampo diventa comunque a due con Reinders, no? Più libero di spaziare e fare un po' più quello che vuole, no? Però dipenderà poi dalle partite, perché se è una partita dove magari vuole essere un po' più conservativo e avere Reinders, che ti fa questo lavoro, ma ti fa ovviamente anche il lavoro di interdizione, ti lega centrocampo attacco in maniera sicuramente migliore, oppure a certe parti dove vorrà il trequartista naturale e a centrocampo ci saranno i due, che potranno essere sicuramente Benassale e Fofanari, e il trequartista naturale, che a questo punto, ripeto, dovrebbe essere comprato. Davanti la situazione, ragazzi, a mio avviso è molto semplice. Ciuqueze e Pulisic da una parte, a mio avviso sarà così, anche se, attenzione, perché se viene adattato Pulisic magari c'è più spazio per Ciuqueze. Il sostituto è Ciuqueze, dall'altra parte Raffa Leao con sostituto Locafor, davanti la punta per ora sembra morata e mi piacerebbe tanto, ragazzi, perché in questo sistema di gioco con gli esterni che, ragazzi, attenzione, perché gli esterni saranno molto più attaccanti rispetto a come giocavano con Pioli, perché? Perché i terzini non fanno questo come facevano con Pioli, ma fanno questo, vanno in sovrapposizione e quindi gli esterni dovranno essere più centrali per ricevere la palla dietro oppure il cross e dare spazio, ovviamente, ai terzini. Questa è una variabile che rispetto a Pioli è una differenza importante che con Pioli non avevamo, cioè con Pioli i terzini andavano più dentro al campo, Teo sarà più libero di andare invece in sovrapposizione sull'esterno e fare cross, eccetera. Quindi questa variabile poi porta gli esterni a far cosa? Ad essere più centrali e, attenzione, a questo punto valorizzi tanto di più Locafor, tanto di più Ciuguez e tanto di più Pulisic, che è uno che dentro al campo e in mezzo al campo, secondo me, fa ancora meglio rispetto a che qua sulla linea e, attenzione, perché Leao potrebbe essere costretto a uscire dalla sua zona di comfort e scoprire che fare qualche taglio in più, muoversi un pochettino di più rispetto a che stare sulla linea e aspettare il pallone, insomma, sui piedi, potrebbe sicuramente diventare un giocatore ancora più importante. E Morata, ragazzi, in tutto questo dovrebbe far dell'accordo, Morata lo fa benissimo, fa segnare, segna. La gente che, ragazzi, si limita al dire non è un bomber, è la stessa che criticava Giroud. Morata, ragazzi, ha 32 anni, è capitano della Nazione Spagnola, ha vinto 19 trofei, ha una marea di esperienza, ha 250 gol, quindi per carità non è il bomber, non è Cristiano Ronaldo, ma comunque sa segnare. Quindi Morata è un super sì. Poi, su Morata poi faremo, ragazzi, quando arriverà un discorso, perché so già che arriveranno e diranno anche questa l'abbiamo risparmiato, eccetera, eccetera, sono d'accordo, però non... la rabbia contro la società è tutto, il nostro disappunto non deve andare a sbagliare la valutazione su Morata, che, ragazzi, a 13 milioni è un grande acquisto. Detto questo, spero che sia chiaro, ragazzi, è stato, insomma, un video abbastanza lungo, però volevo spiegarvi, a mio avviso, come sarà il Milan di Fonseca. Non vi ho spiegato in realtà poi bene come si giocherà, perché giocherà sicuramente, ragazzi, con la difesa molto alta, l'ha già detto, però essendo compatti, molto stretti, non sarà uomo uomo, sarà la distanza delle parti dovrà essere giusta, quindi ci saranno tante cose che in realtà potrei dirvi, no? Ma lo faremo durante l'anno, non c'è problema. Ditemi nei commenti il 3-4 di stacca prendereste, soprattutto se, secondo voi, Fonseca andrà verso la direzione, insomma, di chiedere il 3-4 alla società, perché, ragazzi, il 3-4 all'Ill era uno dei suoi ruoli principali e, ripeto, variava, a volte lo faceva, lo voleva naturale e a volte lo voleva un po' più centrocampista, quindi questo sicuramente lo capiremo col tempo. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo che il like è totalmente gratuito, l'iscrizione è anche, il condividere il video con i vostri amici milanisti e non anche, e vi aspetto tutti in questa enorme famiglia, in questa enorme barca, e nulla, ragazzi, forza Milan sempre, e comunque, ci sentiamo al prossimo video, ci aggiorniamo, intanto ci sarà una maria di roba da dire, ciao ragazzi!